Ok, ciao a tutti, noi siamo gli Untuned e aderiamo, vogliamo riederire anche noi a questa sfida per la SLA e gli vogliamo ringraziare appunto i BPM, i Black Painted Moon che ci hanno nominati e direi che possiamo sottoporsi all'ice bucket Allora, ragazzi, uno, due, tre, via A nostra volta, dominiamo Marco! Allora, io nomino Levante No, io nomino i Tequila for Kids E moltissimi Rumatera Grazie mille